A volte ritornano. Aveva promesso di aver chiuso con la tv. Ma il richiamo stato più forte. Anche se effettivamente il suo ritorno non sul piccolo schermo. Parliamo del mitico giornalista americano David Latterman che da 12 gennaio sarà di nuovo protagonista di un programma dal titolo My Next Guest in It's No Introduction disponibile in streaming sulla piattaforma americana Netflix. Torna dunque il re del talk show P imitato nel mondo a due anni dall'addio al delate show in onda sulla CBS. Il 20 maggio 2015. Lasciato dopo un successo lungo 22 anni. Il primo ospite Barack Obama Letterman. Oggi settantenne. Lasci dunque il testimone al comico Stephen Colbert. Ritirandosi a vita privata. Dopo alcune sue sporadiche apparizioni. Ricordiamo uno speciale top 10 contro Donald Trump durante le scorse elezioni. O un episodio della serie di National Geographic Years of Living Dangerously. Dove Letterman andava in India per testimoniare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla vita di. Tutti i giorni. La piattaforma Netflix ha annunciato il suo ritorno e il debutto con il programma My Next Guest. Niz No Introduction. Il primo ospite sarà niente meno che Barack Obama. La cui intervista sarà appunto diffusa in tutto il mondo il 12 gennaio. Da elle in poi le nuove puntate saranno visibili una volta al mese. E gli altri ospiti illustri saranno. George Clooney. L'attivista Malala Yousafai. Il rapper Jay Zeta. La comica Tina Fey e il conduttore radiofonico americano Howard Stern. I suoi esordi Letterman nasce a Indianapolis nel 1947. E si dedica fin da giovane alla radio. Elle si fa notare per il suo modo scansonato di dare le notizie. Si trasferisce a Los Angeles per eseguire la carriera di scrittore comico e comincia a esibirsi nel. Famoso locale The Comedy Club. Assieme ad altri comici poi divenuti famosi. Come il suo futuro rivale Jay Leno. Elle viene notato dal re della seconda serata televisiva americana. Johnny Carson che diventa il suo mentore e lo ospita numerose volte nel suo late show sulla NBC. Ecco la svolta. La stessa NBC affida Letterman uno show comico mattutino. The David Letterman show. Che, acclamato dalla critica, vince due e mi ma dura solo una stagione. Cancellato per scarsi ascolti. La nascita del late show with David Letterman nel 1982. Letterman ha l'occasione di condurre il. Late Night show subito dopo lo show di Carson. Il primo ospite fu Bill Murray. Uno dei suoi guest per i ricorrenti. Quando nel 1992 Carson si ritira dalla seconda serata. Letterman si aspetta di prendere il suo posto come meritava. Ma la NBC gli preferisce Jay Leno. Letterman dunque passa alla CBS. Dando vita al late show with David Letterman che tutti conosciamo e che andava in onda dal teatro. Ed Sullivan di New York. Successo mondiale straimitato in tutte le tv del pianeta. Accompagnato dagli orchestra del fido Paul Schaffer. Letterman propone il format di interviste introdotte da un monologo comico di attualite da rubriche divertenti come la Top Ten. Le notizie epistrane dai giornali locali. Le invenzioni pittoresche da tutta America. Ecce. La formula. Raramente batte il Tonight Show del rivale Leno in termini di ascolti. Ma diventa un mito e un punto di riferimento. Da lui sfilano i potenti di tutti gli Stati Uniti d'America. E non solo. Sfide. Rivali. Successi. Lo stile comico aspro e provocatorio di Letterman gli costano attacchi. Critiche. Litigi. Clamorosa l'eterna sfida con Jay Leno per accaparrarsi il posto di Johnny Carson. Poi raccontata anche nel documentario HBO dell'Ate Shift. Un'altra sua notte arriva a Litfo con la regina dei talk show Oprah Winfrey. Con cui ebbe 16 anni di divarbi a distanza dopo un'ospitata all'Ate Show nel 1989. Ritenuta sgradevole dalla conduttrice. I due si rapacificarono solo in onda solo nel 2015. Moltissimi gli ospiti. Da Madonna a Costanza numerosissimi gli ospiti. Nel 1994 Madonna disse durante la sua ospitata tantissime volte la parola FAC. Tanto da non essere più invitata per parecchi anni. Nel 1995, invece, Drew Barrymore mostra il seno al conduttore in diretta. Fra gli ospiti più ricorrenti. Invece, troviamo il collega Regis Philbin. Notissimo conduttore americano di programmi del mattino e di quiz come Chi vuole essere milionario. Anche l'attore Bill Murray vanta numerose presenze coscome. Fra gli interventi musicali. Si distinguono i Foo Fighters. La band preferita dal comico. Ma fra i vari ospiti si contano numerosi presidenti. Nella puntata finale apparvero sullo schermo George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. Il quale disse il nostro incubo nazionale è finalmente finito. Ed ora eccolo qui di nuovo. Tra gli italiani citiamo Maurizio Costanzo a lungo definito il Letterman italiano. Tutti gli ospiti di David Letterman